oggi sono al caffè du globe a prendere un gelato però ho portato a controllarmi la mia nutrizionista alessandra buongiorno mi hai trovato senti hanno un po abbondato secondo me nella nella porzione io però sono andato nei gusti di frutta limone fragola ho fatto bene ho fatto male faccio male ogni tanto a mangiare un gelato alessandra allora il come gusti è giusto che ognuno segua i propri certamente gelato alla frutta che ha scelto te armando e quello rispetto alla crema più leggero perché contiene meno proteine meno grassi anche se comunque più zuccheri perché non ha il latte e la scelta del gelato può essere fatta a qualunque momento della giornata molti lo utilizzano anche come pasto e probabilmente questo per te oggi rappresenta il tuo pranzo diciamo di sì è una scusa è una scusa sì come pranzo può essere utilizzato una volta ogni tanto perché comunque anche se rappresenta un pranzo completo non è ben bilanciato perché ci sono molti zuccheri semplici bene sarebbe utilizzarlo come spuntino di metà mattino di metà pomeriggio specialmente nella nella stagione più calda e non come fine pasto come in genere siamo abituati a fare senti una cosa che mi interessa particolarmente i nostri bambini i nostri ragazzi spesso direiamo merendine un po industriali ma può essere invece il caso di un gelato in certi momenti della giornata un gelato magari artigianale come in questo caso sicuramente per i bambini è migliore la scelta del gelato rispetto a quella delle merendine gelato industriale e gelato artigianale fortunatamente oggi anche il gelato industriale è ben controllato però il gelato artigianale rimane comunque di qualità maggiore intanto perché conosciamo gli ingredienti quindi la produzione di prodotti l'uso di prodotti a chilometro zero come per esempio il gelato che stai gustando che oggi tra poco comunque con il secondo cucchiaino verrò a prendermi un po' un po' di prova su strada via di prova su strada anche se ormai questo gelato è ben conosciuto è importante la qualità del prodotto il gelato che andiamo adesso a gustare è un gelato prodotto con materie prime di qualità per esempio il latte che viene utilizzato è un latte fresco del Mugello le uova sono prodotte da galline allevate a terra la scelta della frutta è quella locale e questo rende sicuramente il vantaggio di avere una quantità di nutrienti migliore e maggiore inoltre il gelato artigianale ha anche un indice di sazietà maggiore rispetto a quello industriale quindi benvenga per i bambini la scelta del gelato a patto che avvenga dopo il primo anno di età prima è bene che il bambino inizi dai sei mesi lo svezzamento gradualmente inserendo anche il gelato a partire anche dai nostri tipo limone e la fragola un po' più tardi per eventuali problemi di allergie così come i gelati con la nocciola e comunque con la frutta setta bene, io ringrazio per oggi la nostra dottoressa Alessandra Vincenti che ci ha accompagnata a questa degustazione al Caffè Du Globe mi auguro Alessandra di risentirti presto perché dovremo parlare magari di tanti piccoli particolari dettagli che ci sono nel cibo che tutti i giorni troviamo in tavola volentieri Armando, però adesso pausa svelata benissimo, ce la siamo meritata, grazie Alessandra, ciao e a presto ciao